Sì, credo che possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi, coospitato da WUCLAB e dalla Federazione Internazionale delle Università Cattoliche in Parigi. Mi chiamo Nicolas Vergier e lavoro come partnership manager a De Federazione e oggi ho il placere di essere accompagnato con il signore Carlos Pagnoni, che è direttore di marketing a WUCLAB Italia, e con il professore Stefano Tardini della Università della Tizvera Italiana in Lugano. Benvenuti a lei. In questo webinar ci concentraremo principalmente sul tema della didattica mista, ovvero la miscleria di metodi educativi online con pratiche tradizionali di persona. Attraverso l'esperienza dei nostri ospiti, come questa si interfaccia con le schiffe moderni dell'insegnamento, e in che modo WUCLAB può essere un valido autore per gli insegnanti. Nuovamente grazie a lei per la presenza, per la sua partecipazione, e senza indugi, darò una parola a Carlos e al professor Stefano Tardini. Grazie, Nicolás. Benvenuti a tutti. Cominciamo soltanto tra un momento, aspettiamo magari che si connettano qualche persona in più. Nel frattempo intanto vi introduco a Martino, che è l'account manager di WUCLAB, e sarà lui a tenere questo webinar e a fare le domande al professore Stefano Tardini. che sappiamo essere il presidente all'USI, Università della Svizzera Italiana, e colui che si occupa appunto di scegliere gli strumenti digitali per l'università. Quindi adesso lascio a te Martino un attimo le redini, e vi ringrazio ancora. Grazie mille Carlos per la presentazione. Sì, come ha detto Carlos, sono Martino Luigi, account e customer success manager per l'Italia e per la Svizzera, e quindi sarò il vostro presentatore per questo webinar di quest'oretta. Il webinar, come lo chiamiamo noi da WUCLAB, durerà un'ora, e potete sentirvi liberi di usare la chat per fare domande e comunque per reagire. Qualsiasi problema scrivete pure in chat. E passo la parola all'ospite di oggi, ovvero il professor Stefano Tardini, e il director del USI Lab, se vuole magari dire due parole per presentarsi. Prego Stefano. Grazie, grazie mille. Grazie Martino, grazie Carlos, grazie Nicolas. Buongiorno a tutti. Sì, io sono Stefano Tardini, sono il responsabile dell'e-Lab, che è il servizio e-learning dell'Università della Svizzera Italiana, che ha sede a Lugano e Mendrisio, quindi nella parte della Svizzera dove si parla italiano. Sono il responsabile dell'e-Lab dalla sua fondazione nel 2004, quindi da ormai 18 anni mi occupo di, e-learning, ecco, sono anche docente presso la stessa università per alcuni corsi nella Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società. Originariamente sono laureato all'Università Cattolica di Milano in lettere, con un dottorato in linguistica, quindi vengo anche io da una formazione presso l'Università Cattolica. Perfetto, grazie mille Stefano per la presentazione. E senza altri indugi, vi chiederei di scannerizzare il codice di sovrimpressione oppure di connettervi attraverso questo link che adesso girerò in chat, dovreste riuscire a farlo. Quindi potete farlo sia da PC, quindi utilizzando l'URL che ho girato in chat, oppure scannerizzando il codice di sovrimpressione. Vedo che cominciano già un po' di persone, qui in basso a destra possiamo sempre tenere conto di quante persone sono connesse in questo evento. Quindi da quello che mi ricordo dovrebbero essere 34, 35, quindi aspettiamo un attimo di raggiungere un numero abbastanza sostanzioso per poter continuare con la parte, diciamo, interattiva del webinar. Grazie. Per caso c'è qualcuno che non riesce a collegarsi perché vedo che il numero è a metà in questo momento. Allora, diciamo che comunque abbiamo già un buon numero di persone connesse, quindi man mano che si connettono gli altri potrete usare le domande interattive e iniziamo subito con la prima parte. Un attimo Martino che Mosè dice Mosè e Roberto non riesci a collegarsi. Dovrebbe esserci il link che ho postato in chat. Prova a copiare e incollare il link sulla barra di ricerca. Sì, e poi io, collega, mi scusate, però... Non c'è problema. Dalla Google e poi risponde alle domande cliccando su questa icona o... Ok, vedo che sta continuando a aumentare il numero di partecipanti. Potete sempre vederlo in basso a destra. Ok, perfetto. Siccome siamo in 17, vedo su Zoom partecipanti, siamo connessi in 19. Se c'è qualcun altro che ha qualche altro problema, magari non lo so. Perfetto. Allora, siamo già a un buon numero. Io vi chiederei di rispondere già alla prima domanda che dovrebbe apparire sul vostro smartphone oppure se siete collegati attraverso PC oppure anche tablet dovreste riuscire a vederlo. Questa è una domanda in cui mi si chiede un po' da quale parte d'Italia venite. Se non siete in Italia potete scriverlo comodamente sulla chat dei messaggi all'interno di V-Club oppure potete scriverlo anche sulla chat di Zoom, quindi non c'è nessun problema se qualcuno non si trova in Italia. Perfetto, vediamo che c'è qualcuno che è collegato da New Jersey, quindi in America e qualcun altro che viene da Roma, Bogotà, Colombia, Vicenza. Perfetto, quindi molto molto interessante. Non so se riuscite a vedere i risultati sulla mappa. Dovreste essere in grado di riuscire a vederli. Perfetto, io vedo tutte le risposte sulla barra dei messaggi. Ovviamente questa è una domanda in cui bisogna semplicemente schiacciare sulla regione d'appartenenza, in questo caso questa è un'altra cosa, e dovrebbe apparire il PIN. Quindi in questo caso possiamo vedere che, non capisco come mai non siano visualizzati i risultati, però comunque dovreste essere in grado di vedere sulla cartina tutte le regioni nelle quali voi avete cliccato. Quindi questo è un tipo di domanda interattiva che di solito si usa per rompere un po' il ghiaccio e iniziare un po' la conversazione. Un'altra domanda che vi propongo è il motivo per il quale avete deciso di partecipare a questo webinar. Qui avete un po' di opzioni che potete scegliere e vediamo che man mano che le persone scelgono si vede un po' qual è il trend generale dell'aula, o in questo caso dell'aula virtuale. Ok, perfetto. Aspettiamo ancora un pochino prima di vedere i risultati. Siccome nove persone hanno messo la risposta. Se c'è qualcuno che comunque non riesce ancora a connettersi, può scriverlo nella chat e magari, non lo so, Carlos, in qualche maniera, oppure anch'io possiamo aiutarvi. Perfetto. Quindi vediamo che la maggioranza delle persone connesse hanno risposto e i risultati più significativi sono comunque la risposta numero quattro, perché comunque c'è un trend che comunque, diciamo, c'è un interesse su V-Club e quindi su quello che può offrire. Ovviamente vediamo anche che ci sono altre tipologie di risposte, però comunque quella più importante, quella più scelta, è quella numero quattro. Quindi per capire un po' di più che cosa significa e che cosa può offrire V-Club. Perfetto. Quindi come abbiamo già visto prima e che Nicola si ha introdotto, questo topic di questo webinar è l'apprendimento misto e le varie sfide di diversi formati di insegnamento. Quindi l'agenda comprenderà una prima parte sull'apprendimento misto, in cui vedremo un attimo di cosa si tratta e che cos'è. Ci sarà un formato di insegnamento e sfide attuali, ovviamente, degli insegnanti e delle maniere di insegnare e dell'insegnamento attuale in Italia, comunque anche all'estero. E la terza parte, la parte finale, che sarà praticamente una parte di domande che saranno fatta al nostro guest Stefano Tardini e in cui capiremo come mai ha scelto V-Club per usi e qualche soluzione per il caso pratico. Perfetto. Allora, vi chiederei di rispondere a la prima domanda su V-Club, ovviamente, attraverso il vostro smartphone oppure se siete collegati da PC e rispondere a quando sentite parlare di apprendimento misto, che cosa vi viene in mente? Perfetto. Quindi vediamo che man mano che le risposte arrivano comincia a crearsi la nuvola di parole, o in inglese word cloud, e man mano che le risposte più frequenti vengono riscritte una dopo l'altra, si ingigantiranno nel centro e quindi vuol dire che probabilmente quel tipo di risposta o argomento è più sentito in questa aula, comunque in questo webinar. Ovviamente ci sono anche altre maniere di visualizzazione per il numero di parole, perché il numero di parole dopo un po' quando diventa troppo grande e abbiamo troppe parole, diventa un po' difficile, insomma, da gestire e possiamo comodamente vedere l'elenco dei risultati in forma di lista, quindi qui abbiamo un po' di risposte, quindi per esempio c'è il Mixtra Presenza Online che è assolutamente pertinente al webinar di oggi, abbiamo l'aggettivo dinamico che è assolutamente pure pertinente a VCLAP, possiamo per esempio vedere Blended Learning Flipped Classroom che comunque è una delle tematiche di cui si occupa VCLAP, imparando presenza a distanza e via discorrendo. Nel caso vorreste vedere comunque risultati sotto forma di griglia, potete cliccare qui e verranno visualizzati al display sotto forma di griglia, quindi anche un attimo, un po' più, diciamo, al posto di avere una lista, avrete una griglia e così avete tutto sotto mano. A tal proposito, io chiederei infatti un commento al nostro ospite Stefano Tardini e soprattutto se avesse qualche esperienza di apprendimento misto a livello professionale e in quale contesto di insegnamento questo sia dimostrato efficace alla luce un po' dei risultati. Sì, grazie mille. È molto interessante le diverse risposte che avete dato. Vedo appunto, sono citate, appunto, Ibrido, Blended Learning, Flipped Classroom che è un esempio di Blended Learning. mi sembra che diversi abbiano messo l'alternanza di momenti in presenza e a distanza, quindi sottolineando l'aspetto spaziale, diciamo, dell'apprendimento. C'è una parte di apprendimento che avviene in presenza in cui i docenti e gli studenti condividono lo stesso spazio che appunto normalmente si intende lo spazio fisico, mentre lo spazio online viene normalmente inteso come a distanza e un altro momento appunto di apprendimento a distanza. Aggiungerei forse l'importanza anche dell'aspetto temporale, cioè apprendimento misto spesso è l'alternanza di momenti di insegnamento e apprendimento in sincrono, quindi in cui il docente e lo studente sono presenti nello stesso momento in un ambiente che può essere fisico-virtuale, comunque, diciamo, il momento dell'insegnamento coincide con il momento dell'apprendimento e invece un momento asincrono in cui è lo studente che in maniera più o meno autonoma o guidato dal docente che però non è contemporaneamente presente impara. Quindi io credo che nell'apprendimento misto si intersechino un po' queste due dimensioni, sia quella spaziale sia quella temporale. Per quanto riguarda esperienze, credo appunto che in realtà tutti facciamo esperienza di modalità di insegnamento e di apprendimento misto. Posso provare a raccontare alcuni esempi che nella nostra università abbiamo avuto soprattutto negli ultimi due anni dove appunto come potete immaginare l'aspetto dell'e-learning è diventato così un po' centrale all'interno dell'università e in cui in diversi contesti abbiamo fatto diverse esperienze di apprendimento misto. forse quella più più importante è stato uno dei semestri scorsi durante proprio il periodo della pandemia quindi in cui dopo la fase di lockdown avevamo potuto tornare in parte in presenza per un semestre abbiamo adottato proprio un modello di didattica mista in cui ciascun corso alternava una settimana di lezioni in presenza e una settimana invece di lezioni online o comunque appunto di insegnamento a distanza allora in questo caso noi ci siamo sentiti di dare così alcune indicazioni ai nostri docenti per fare in modo che soprattutto la parte di insegnamento a distanza sulla quale evidentemente erano un po' meno esperti potesse essere efficace e non diventasse diciamo un cercare di replicare a distanza le stesse cose che si facevano in presenza quindi abbiamo cercato di consigliargli di alternare anche a distanza alcuni momenti sincroni in cui potevano incontrare gli studenti tramite Zoom o tramite Teams con altre attività asincrone in cui erano loro a dare delle indicazioni agli studenti su cose da fare quindi in questo senso un apprendimento misto dove per attività asincrone potevano esserci per esempio o dei video pre-registrati che gli studenti guardavano oppure impostare delle discussioni nei forum della piattaforma Moodle che loro hanno a disposizione oppure assegnare per esempio dei paper da leggere agli studenti e poi farglieli commentare o fargli rispondere a delle domande in gruppi e così via quindi questo è stato un po' l'esempio più grosso anche diciamo durante il periodo di totale lockdown quindi in cui eravamo forzati a stare a distanza per esempio in un corso dottorale che tengo con il mio collega il professor Cantoni un corso dottorale che normalmente si svolgeva sull'arco di una mezza giornata intera quindi quando eravamo in presenza facevamo quattro ore abbiamo cercato di trasportare questo in una situazione di online non facendo un incontro di quattro ore in diretta perché sarebbe stato veramente molto pesante allora anche qui abbiamo cercato di alternare diverse modalità in cui all'inizio c'era un video pre-registrato sull'argomento della lezione gli studenti dovevano guardare il video portare un loro contributo rispetto ai contenuti del video sul forum della piattaforma commentare almeno altri due messaggi dei loro colleghi sul forum della piattaforma e poi nell'ultima ora di lezione ci siamo trovati online via Teams a riprendere tutto quello che gli studenti avevano fatto e a un po' concludere tutto quindi abbiamo fatto questa esperienza di apprendimento misto dove misto voleva dire proprio alternare diverse modalità di insegnamento e apprendimento spero di così di avere risposta alla tua domanda Martino se c'è qualche domanda più particolare volentieri sono a disposizione grazie mille dopo avremo un mini spazio verso la domanda e quindi nessun problema se dopo qualcuno vuole segnarsi una domanda per farla dopo a me o Stefano avrete questo tempo dopo più tardi grazie mille comunque Stefano andiamo avanti ok quindi siamo arrivati alla seconda parte di questo webinar quindi si parla di formati di insegnamento e le attuali sfide presenti in Italia in questo caso vi chiederei di di nuovo ricollegarvi con il vostro smartphone o tramite pc e di rispondere a questa tipologia di domanda che si chiama domanda brainstorm ok questa domanda di solito viene usata per cercare di estrapolare certi tipi di argomenti rispetto a qualcosa che si è appreso magari in classe oppure rispetto a un a un specifico meeting che si potrebbe fare anche durante la settimana e serve anche per capire un po' il mood rispetto a ovviamente il discorso che si sta facendo in questo caso parliamo di le tre sfide dei formati di insegnamento quindi vediamo che già c'è qualche risultato vediamo che a distanza ovviamente c'è poca attenzione gli studenti possono essere sbogliati vediamo che poca attenzione anche poca iterazione potrebbero anche essere parte della stessa tipologia quindi potete anche fonderli come un'unica risposta sulla parte ibrida vediamo che c'è collaborazione di gruppo quindi assolutamente sì c'è molta collaborazione se si usano dei formati blended confusione tra tutti questo potrebbe essere un argomento magari da trattare in seguito strumenti complicati di persona vediamo che ci sono lezioni pesanti e lunghe e comunque è anche abbastanza interessante chiederei sempre a Stefano magari se vuole commentare qualcuno dei risultati che appaiono live sulla domanda magari c'è qualcosa che ti suona un po' più insomma simile anche grazie sì sì no è molto interessante sì mi sembra che siano stati un po' centrati tutti poi in diversi punti sicuramente la questione a distanza la questione dell'attenzione è centrale credo che questo non sia soltanto nell'insegnamento a distanza ma anche in quello di presenza infatti per esempio adesso non vedo proprio bene la parte di schermo ecco si può scorrere di là ecco coinvolgere tutto il gruppo lezioni pesanti e lunghe quindi il problema dell'attenzione sicuramente si propone anche nelle lezioni in presenza però è particolare è vero che è particolarmente rilevante a distanza dove appunto lo studente magari è a casa sua in un posto diciamo isolato dove ha mille altre distrazioni dove magari ha anche situazioni penso proprio al periodo della pandemia un po' anche problematiche quindi sicuramente tenere destra l'attenzione degli studenti è una sfida particolarmente elevata in contesti a distanza avevo visto un'interessante uno strumenti complicati o confusione fra tutti i tools per la modalità ibrida questo trovo che sia molto interessante che sia senz'altro un altro aspetto importante perché è vero che in questi due anni abbiamo assistito al moltiplicarsi di diversi strumenti che sono messi a disposizione e questo è un aspetto molto rilevante noi per esempio all'università durante i due anni così di modalità interamente online economista abbiamo raccomandato sempre a tutti i docenti di mantenere come unico canale diciamo così dove veicolare tutte le informazioni per gli studenti sulle diverse modalità sulle diverse compiti che avevano da fare la piattaforma Moodle che avevano quindi abbiamo detto ogni informazione deve passare da lì proprio per evitare che anche gli studenti poi venissero si perdessero fra le diverse piattaforme e diversi strumenti quindi trovo che anche questo sia un aspetto molto rilevante e poi l'aspetto dell'interazione sicuramente è molto rilevante diciamo quando si è in presenza anche lì è rilevante però quando si è in presenza è più facile cogliere dai cenni degli studenti se appunto se sono attenti se si stanno perdendo quindi è più facile promuovere l'interazione a distanza questi feedback vengono meno e la sfida è senz'altro più elevata assolutamente ok quindi penso che comunque come avete visto questa tipologia di domanda ha due modalità di utilizzazione quindi c'è la modalità ordinare per categoria quindi ovviamente quella che abbiamo visto all'inizio e potete vederla anche sotto forma di griglia quindi nel momento in cui avete bisogno comunque di vederli un po' tutti sotto mano potete usare la griglia comodamente io continuerei con l'altra parte del webinar ok quindi siamo diciamo alla parte un po' più di botta e risposta tra me e Stefano e questa è la parte in cui insomma chiediamo a Stefano come mai hai scelto V-Club e soprattutto come mai cioè che tipo di sfide ti ha aiutato a superare questo nostro tool sì allora se posso scorporerei la tua domanda in due in due parti una perché diciamo uno strumento come V-Club e due perché proprio V-Club nel senso che appunto V-Club è uno strumento che appunto favorisce proprio l'interazione in classe con gli studenti come appunto come sapete non è l'unico ce ne sono diversi altri sul mercato noi alle nostre università ne stavamo già usando parzialmente uno allora sicuramente strumenti come questi sono a mio avviso veramente molto utili e molto interessanti proprio per promuovere l'interazione in classe sia in contesti in cui sia in classe in presenza e questo vale soprattutto magari per le classi un po' più grandi perché è chiaro che se sei in 4 o 5 in classe forse la mediazione di uno strumento è meno è meno interessante però se se si hanno classi grandi dai più di 10 anche 20 30 o 100 per sia per tenere destra l'attenzione appunto come abbiamo visto prima sia anche proprio per favorire l'interazione uno strumento come questo è veramente molto utile quindi diversi docenti anche nelle nostre università ci chiedevano appunto strumenti per poter sollecitare la classe fare domande fare domande ottenere risposte in tempo reale e così via oppure anche per attività un po' più complesse perché appunto come avete visto anche con V-Club si può appunto non soltanto fare una domanda in cui non risponde immediatamente ma magari lasciare anche diciamo campo aperto e fare domande in cui lo studente riflette per qualche minuto e poi manda la sua risposta quindi credo che da questo punto di vista uno strumento come questo sia molto utile come dicevo appunto ce ne sono diversi sul mercato noi ne stavamo già usando uno a un certo punto diciamo circa un anno fa abbiamo deciso di passare a V-Club perché appunto io mi occupo proprio un po' di monitorare e cercare nuovi strumenti da proporre e ho trovato che fra questo tipo di strumenti V-Club era quello diciamo con un rapporto qualità-prezzo decisamente molto migliore diciamo ha la stessa qualità di altri strumenti che conoscevamo le funzionalità sono diciamo bene o male le stesse con piccolissime differenze non particolarmente rilevanti e abbiamo potuto prendere una licenza campus che abbiamo iniziato a gennaio di quest'anno a un costo veramente molto vantaggioso quindi perché è proprio V-Club la mia risposta è questa qui grazie mille Stefano e ti farei un'altra domanda direi da scorporare sempre in due parti ovviamente se non sono complicate non ci piacciono quindi ti farei una domanda e ti chiederei se fondamentalmente è stato facile implementare V-Club presso Uzi quindi l'Università della Svizzera italiana e come sono stati spinti gli insegnanti ad utilizzarlo durante il corso dei primi mesi e comunque anche della parte pilot sì allora in generale direi che è stato senz'altro molto facile diciamo principalmente perché di suo V-Club è una piattaforma indipendente quindi non c'è stato come dire bisogno di doverlo integrare con altri sistemi anche se un altro vantaggio ecco questo potevo menzionarlo prima che per noi a V-Club è che in realtà c'è un plugin di integrazione con la piattaforma Moodle che noi usavamo quindi da un punto di vista diciamo tecnico l'unica piccola integrazione è stata questa e poi V-Club permette l'autenticazione tramite Microsoft quindi abbiamo potuto diciamo adottarlo senza neanche dover creare nuovi account per gli studenti e questa per gli utenti scusate sia che fossero docenti sia che fossero studenti e questo è stato senz'altro un fattore che ha agevolato molto l'adozione dello strumento quindi è stato facile anche perché poi è uno strumento molto semplice da utilizzare adesso ho controllato proprio stamattina le statistiche ho visto che ci sono oltre 600 account creati dall'Usi dalla nostra università con V-Club di cui più di 100 sono docenti attivi quindi sicuramente per essere diciamo stato adottato da meno di un anno c'è stata secondo me già una un'adozione una penetrazione molto significativa la seconda domanda me la ripeti scusa Martino nessun problema la seconda domanda è come sono stati spinti gli insegnanti ah sì giusto ecco sì diciamo su questo noi appunto come come servizio di supporto all'e-learning abbiamo già alcuni così strumenti che usiamo normalmente prima dell'inizio di ogni semestre inviamo sempre a tutti i docenti dell'università delle email in cui gli segnaliamo le novità che ci sono sia rispetto alla piattaforma Moodle sia rispetto a nuovi strumenti quindi abbiamo comunicato questa adozione di V-Club in questa email abbiamo fatto anche qui normalmente prima dell'inizio dei semestri proponiamo dei webinar o workshop in presenza in base a quello che si può di presentazione di questi strumenti quindi ne abbiamo fatto uno era un webinar mi sembra in cui è intervenuto anche Martino quindi a cui hanno partecipato le nostre persone quindi diciamo abbiamo usato un po' i normali strumenti che utilizziamo per comunicare con i nostri docenti e per raggiungerli introducendo in questi appunto segnalando in questi V-Club e devo dire che appunto essendo uno strumento molto facile da usare user friendly non abbiamo avuto problemi particolari perfetto grazie mille io ti farei l'ultima domanda che ho insomma dalla mia parte ed è se hai qualche consiglio pratico su come usare V-Club al meglio durante la lezione scusate la mia voce ho un po' di allergia quindi se si riempi questa voce scusate allora consigli pratici sì qui parlo piuttosto della mia esperienza come docente allora ecco una domanda che ci fanno spesso i docenti su questo tipo di strumenti è l'integrazione con PowerPoint perché molti dei nostri docenti utilizzano PowerPoint a lezione allora ci dicono ma si può integrare V-Club ha un plugin per PowerPoint quindi è possibile installare il plugin e inserire le interazioni di V-Club dentro le slide io questo l'ho fatto in alcuni casi e funziona bene se devo essere sincero però per me diciamo il modo più semplice per usarlo è proprio dal web quindi lasciare separate la parte di presentazione PowerPoint e web e semplicemente durante la lezione switchare da uno all'altro passare da uno all'altro per il resto appunto è uno strumento che secondo me funziona veramente bene ed è molto utile in situazioni di sincrono quindi sia in presenza sia online in un contesto come questo è molto utile V-Club può essere usato anche in situazioni asincrona quindi uno può creare se non sbaglio un questionario Martino corregimi se sbaglio e che poi può essere fruito dallo studente diciamo non in tempo reale ma con i suoi tempi c'è il participant pace quindi c'è anche questa possibilità che appunto io devo essere sincero ho esplorato di meno però in situazioni di un contesto sincrono senz'altro è uno strumento molto molto utile e immediato dopo ci sono così alcune particolarità a cui fare attenzione magari in alcuni contesti è più utile quando si fanno le domande proiettare nascondere le risposte in modo che lo studente non veda già cosa hanno risposto gli altri e in altri casi invece può essere utile farle comparire in tempo reale in alcuni casi può essere utile lasciare l'anonimato degli studenti in altri casi può essere utile invece che le risposte compaiano e vengano associate allo studente ecco dopo ci sono degli accorgimenti che utilizzando uno può adottare perfetto grazie mille Stefano e direi che continuiamo quindi fondamentalmente siamo arrivati quasi alla fine e giusto un'ultima slide per insomma riassumere un po' quello che è stato detto in questa mezz'ora 40 minuti di webinar è stato che in sintesi abbiamo capito cosa si intende per apprendimento misto quindi un apprendimento che sia in aula quindi in presenza e anche da casa con in questo caso WCLAB come tool abbiamo anche una diversificazione dei formati di insegnamento e delle sfide che si comportano quindi ovviamente un professore che insegnerà da casa tramite un tool non avrà le stesse sfide che in aula e viceversa e lo stesso anche per quanto riguarda gli studenti e inoltre abbiamo visto che c'è la possibilità di fare formazione con strumenti digitali da parte dell'università quindi come in questo caso abbiamo invitato Stefano a parlare come ha fatto la USI negli scorsi mesi e comunque continua tutto da farlo usando WCLAB abbiamo visto inoltre il ruolo dell'interattività che assolutamente migliora l'apprendimento è possibile partecipare comunque nel formato di insegnamento quindi potete partecipare da casa potete partecipare anche in aula perché ovviamente magari potete usare WCLAB con un proiettore in aula per far partecipare tutta l'aula attivamente e ovviamente agevola il ruolo del docente perché così può insegnare o comunque può avere un'interattività maggiore che lo aiuta ad avere un rendimento maggiore a lungo termine per quello che sta insegnando ok quindi mi chiederei di rispondere a quest'ultimissima domanda WCLAB che cosa ricorderete di questo webinar perfetto quindi comincio a vedere che si stanno formando le risposte sotto forma di nuvola di parole ci tengo comunque a magari sottolineare che settimana prossima faremo un open training quindi per chiunque è interessato potrete essere invitati all'open training in Italia che faremo giovedì prossimo quindi avete la possibilità di vedere una demo di WCLAB vedere un attimo magari anche più nel dettaglio come funziona e quali altri tipologi di features abbiamo implementato e avremo qualche altro ospite in Italia qualche Ateneo con quale lavoriamo come per esempio la USI che potranno insomma farci un loro feedback e vedrete un attimo come funziona WCLAB perfetto bellissimi questi questi commenti quindi sono proprio quelli che cercavamo proprio per finire il webinar in bellezza e vedo che comunque la maggioranza sono inerenti se non tutti con l'argomento che abbiamo trattato oggi ecco questo è diciamo siamo giunti un po' alla fine di questo webinar e se avete qualche domanda per me o per Stefano o anche per Carlos non esitate a farle pure potete anche farle a voce prego allora grazie per la presentazione io vengo da San San Salmo di Roma non lo so come avete ricevuto il mio indirizzo ufficio qualità io ho ricevuto un email da voi non lo so chi ha dato questo email però è interessante però noi stiamo usando adesso Moodle appena abbiamo cominciato vuol dire da Germania sono venuti che hanno installato nelle nostre università San San Salmo e poi ci hanno dato anche un po' di orientamento ancora nostri docenti non un po' anziani diciamo e poi anche argomenti sono monastic e liturgia diversi argomenti però sempre noi seguivamo tradizionale insegnamento tradizionale per loro adottarsi ai nuovi tools per esempio prenderà un po' di tempo non ancora stiamo usando i tool di Moodle quando mi pare più presto quando tutti siamo abituati con questi tools e così possiamo paragonare poi sapendo di più di questo nuovo piattaforma senz'altro per me era stata una grande informazione su questo io approfondirei di più del sito di Web mi pare mi ha fatto un po' di interesse mi ha dato e così presenterò i nostri decani di diverse facoltà di filosofia teologia e poi istituto liturgico che abbiamo a San Danzano del mio ufficio come qualità di quality assurance posso fare riferimento a questo grazie grazie a lei per il feedback che comunque spero le sia piaciuto assolutamente può riferirci nel momento in cui qualche vuole e dopo potremo magari esplorare insieme delle eventualità di collaborazione nessun problema se c'è qualcun altro che ha qualche altra domanda per me oppure per Stefano anche in chat scrivetele pure posso prego 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 solo se mi potete dire quale differenza da piattaforma di Moodle e questo quale noi possiamo subito vedere se c'è qualcosa non ho ancora usato posso provare Moodle sì ecco grazie può essere il signor Stefano sì sì volentieri grazie sì io credo che Moodle e V-Club siano due piattaforme del tutto complementari Moodle appunto noi l'abbiamo adottato nel 2004 devo dire il processo di adozione appunto anche noi all'inizio abbiamo avuto gli stessi problemi che sono stati segnalati prima e che i docenti non erano abituati quindi insomma è un processo che comunque richiede del tempo ed è giusto accompagnarlo diciamo così anche con pazienza diciamo la funzione principale di Moodle anche come usato da noi è quella diciamo di raccogliere un po' tutti i materiali di un corso nello stesso ambiente quindi lo studente sa che tutti i materiali del corso di filosofia medievale li può ritrovare su Moodle all'interno della pagina del corso di filosofia medievale e quindi ci potranno essere le slide presentate a lezione piuttosto che degli articoli per approfondire e così via quindi è uno strumento che lo usiamo principalmente in una modalità asincrona a supporto dell'insegnamento tipicamente in presenza mentre uno strumento come Vuclap è uno strumento principalmente per l'interazione in tempo reale quindi in un contesto o come questo di un webinar di un incontro online in cui i presentatori possono porre delle domande ai partecipanti o anche principalmente in aula in cui il docente può interagire con la sua classe appunto soprattutto se ha una classe con un numero consistente di studenti e avere delle risposte in tempo reale dalla classe quindi sono due strumenti a mio avviso totalmente complementari e che non si sovrappongono l'uno con l'altro non so se se ho risposto alla sua domanda o se ho chiarito un po' grazie veramente grazie penso ci fosse un'altra domanda adesso credo sì volevo sapere quindi io all'Università di Firenze uso Moodle e uso VClub cioè ho iniziato a usare VClub e l'ho trovato molto più intuitivo diciamo più smart anche per i ragazzi diciamo ha secondo me un po' la pilla di essere accattivante no? come come strumento rispetto a Moodle che invece lo trovo molto rigido insomma ora poi dipende dall'insegnamento che uno ha volevo sapere se nel prossimo incontro giovedì ci sono perché quello che mi interessava era come dire vedere delle applicazioni anche più che potevano andare al di là di quello che uso io insomma che sono comunque le cloud o qualche domanda insomma vedere delle interazioni che mi potessero un po' suggerire delle strade dei campi di applicazione ecco diversi ok allora rispondo io assolutamente nell'open training diciamo che è un open training è il primo open training che facciamo per l'Italia quindi ci saranno tanti vari atenei che comunque sono già collaboratori di Vucla ma è un open training che è aperto anche a tante altre persone che magari non hanno avuto l'opportunità di usarlo quindi probabilmente ci sarà una parte che magari per lei potrebbe essere un po' più tre virgolette mi passi il termine ripetitiva però allo stesso tempo ci sarà anche una parte in cui le nuove features in cui verranno spiegate questa ovviamente per chi è già cliente comunque con la licenza campus che cosa è cambiato da gennaio 2022 fino ad adesso quindi quella sarà interessante con anche dei ritorni di feedback dal punto di vista di tre università che sono clienti e tuttora la usano per quanto riguarda la domanda su una possibile diciamo come si può dire su un possibile consiglio su cosa usare magari per andare un po' più al di là delle domande basic chiamiamole così quindi parole o magari sondaggio piuttosto che qualche altra domanda dovrebbe esserci comunque una nuova features che se non è già arrivata arriverà a breve che consiglierà direttamente attraverso la piattaforma WCLA quali tipo di domande sarebbe bene usare per quale tipo di lezione quindi questa è una cosa che comunque dopo vedremo anche nel corso dell'open training e questo potrebbe essere magari qualcosa di interessante anche per lei a seconda del tipologia di diciamo di classe comunque di materia che insegna magari può darle qualche spunto in più rispetto a magari un utilizzo un po' più statico chiamiamolo così che comunque non lo è però comunque spero di aver risposto sì sì grazie 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 a lei se c'è qualcun altro che ha qualche altra domanda su chat c'è una domanda se mi date un'altra opportunità io voglio chiedere semplicemente come funziona classe virtuale perché quando divisiamo i gruppi per esempio se abbiamo 15 studenti su Moodle si può mettere 5 studenti in un'aula virtuale e poi io come docente posso entrare e poi parlare con quella classe come funziona su questa piattaforma mi potete dire se c'è questa possibilità e non sono sicuro di aver capito esattamente la domanda non so Stefano su Moodle noi abbiamo se ci sono 15 studenti in mia aula io posso mettere 5 studenti per discutere su un argomento io posso dare loro 5 studenti mettere in aula virtuale come io docente io posso entrare in queste tre aule se dividiamo in tre aule virtuale si funziona anche su questo durante le lezioni io credo che la risposta sia che questo appunto può essere poi integrato in ciascun'aula virtuale cioè dopo ciascun docente nella sua aula virtuale può creare delle attività V-Club appunto questo vedevo anche nella chat c'era una domanda su Teams questo è uno strumento che si integra con Moodle con Teams ma che fa appunto serve per altre cose che Teams e Moodle fanno in maniera un po' più appunto come diceva prima la professoressa un po' più rigida anche Moodle ha uno strumento di feedback però insomma è molto più complicato crearlo questo si crea in tempo reale e si ottiene il feedback in tempo reale anche Teams ha degli strumenti di interazione a mio avviso questo è più agile appunto si integra molto non va a sostituire aule virtuali repositori di materiali o strumenti come Zoom o Teams che servono per appunto come videoconferenza ecco è qualcosa che si aggiunge a questi quanti assolutamente ho visto che c'è una domanda che riguarda l'open training ed è giovedì prossimo alle ore 15 quindi magari adesso non so se Carlos riesce a girare un link sulla di registrazione direttamente sulla chat quindi per chi si vuole registrare lo può fare direttamente e da qui ok quindi fondamentalmente diciamo che il webinar si è concluso o comunque il webinar come lo chiamiamo noi e ci tenevo a ringraziare tutti voi che avete partecipato la FIUC in particolare per questa opportunità il nostro speaker Stefano Fertardini dell'Università della Svizzera Italiana per la sua esperienza e il suo interesse verso V-Club dimostrato in questi mesi e l'anno scorso e soprattutto speriamo che vi sia risultato interessante questo argomento di didattica mista e che se nel caso fossi interessati a V-Club possiate prendere contatto con me oppure con i miei colleghi e a nome di tutto il team V-Club vi ringrazio e vi auguro una buona serata e grazie a tutti adesso comunque gireremo il link per chi si vuole iscrivere grazie grazie a tutti anch'io sono volentieri a disposizione se avete domande non esitate a contattarmi posso se volete mi metto nella chat la mia email per qualsiasi domanda ulteriore grazie mille a tutti grazie a Stefano Carlos grazie a tutti grazie buon pomeriggio a tutti grazie grazie scusate ho scritto male l'email grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti